Non ha fatto mancare il suo incoraggiamento ad una forma di devozione intrisa di popolare genuinità. Il Vescovo della Diocesi di Nocera Sarno, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giudice, che ha sollecitato il prosieguo di un cammino legato essenzialmente all'amore per la Madonna, il cammino di quel gruppo di fedeli e di devoti di Pagani che con profondo coinvolgimento emotivo ha voluto riaprire il tosello di Franco Tiano all'interno del cortile Califano. La visita del Vescovo ci riempie di gioia e di onore a me il cortile Califano e tutto il quartiere storico Via Lamia. Poi c'è stata la presenza di Don Flaviano e Sir Silvana che tanto hanno voluto questo rosario in questo cortile perché queste erano cose che si facevano molto molto tempo fa, però da tempo non si facevano più rivedere le porte aperte di questo tosello è una cosa fantastica. Voglio ringraziare il fratello di Franco che sta in Germania perché abbiamo riportato il quadro che esponiamo una volta all'anno in questo portone perché Franco il quadro una volta che l'aveva portato in casa non lo faceva più uscire fin quando non arrivava la Madonna e noi per l'occasione che c'era il Vescovo abbiamo telefonato in Germania abbiamo chiesto il fratello e ci ha dato l'onore di esporre anche il quadro. E' la tradizione, la cultura, la storia di una festa, di una comunità, di un'identità popolare che viene alimentata da tanti giovani tra cui Alfonso e i suoi amici che portano avanti una bella tradizione. Grazie a Vescovo, grazie a tutti, una bella cerimonia di fede e anche di storia.